Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono state per ora viste come una telenovela. Ci sono state accuse di corruzione, ci sono state campagne diffamatorie, ma a parte tutta la propaganda, come funzionano realmente le elezioni presidenziali degli Stati Uniti? Le primarie e i cacus democratici e repubblicani sono già in corso in ogni singolo Stato americano per scegliere il candidato alla presidenza dei rispettivi partiti. Vincendo le primarie, che sono una specie di mini-elezione, il candidato democratico repubblicano si aggiudica un certo numero di delegati che lo sosterranno alle convention di partito nel mese di luglio. Dopo le convention, le elezioni inizieranno sul serio. Ci saranno tre dibatti televisivi nelle ultime sei settimane prima delle elezioni. Ogni candidato alla presidenza cercherà di far valere il proprio programma, provando a convincere ogni americano di avere le capacità per guidare il paese. Serviranno 270 voti elettorali per vincere le elezioni presidenziali del 2016, che si terranno l'8 novembre. La cerimonia invece di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America sarà il 20 gennaio del 2017.